Ciao a tutte ragazze, mi chiamo Sara e anch'io come molti altri ho deciso di aprire un canale youtube tutto mio dedicato esclusivamente alle tendenze di oggi riguardante la bellezza, quindi moda, make up compresi, capelli, benessere fisico, la pelle, insomma riguardante tutti tutti gli argomenti appunto dedicati interamente alla bellezza. Premetto già che io non sono una che ha fatto dei corsi di make up, che comunque non sono una che si intende particolarmente di moda, non ho assolutamente frequentato alcun tipo, cioè alcun genere appunto di questi corsi, ma semplicemente ne parlo perché io sono un'appassionata di make up e un'appassionata di moda, io davvero seguo tanto le tendenze e mi piace davvero applicarle al giorno, quindi oggigiorno se una cosa va così magari mi piace io la metto tranquillamente, ovviamente se c'è una tendenza che non mi piace io tranquillamente la trasgredisco, ma non perché appunto non voglio seguire la moda, semplicemente per il fatto che non mi piace. E ovviamente nel canale non ci saranno solo argomenti riguardanti alla bellezza, ma ci saranno anche ad esempio challenge, scherzi epici, scherzi telefonici, scherzi diciamo scherzi appunto dal vivo se vogliamo chiamare, nel senso scherzi fatti al momento, challenge che anche perché io sono un'appassionatissima di challenge, visto che guardo un sacco di challenge, e mi piacciono, mi fanno morire da ridere, quindi direi di apportarla assolutamente sul mio canale, non devono affatto mancare. Ci saranno magari anche delle live, volendo, se appunto un pochino più avanti potrebbero esserci tranquillamente delle live, chissà magari un giorno anziché registrare video, editarlo eccetera, metterò lì tranquillamente in live e vi farò vedere tutto quello che avviene appunto anche io sarò una ragazza che non avrà maschera e quindi spudorata e sincera, semplice, solare, così com'è nella realtà, quindi sarò tranquillamente io, non avrò problemi a mostrarmi al pubblico, comunque a mostrarmi agli altri, perché trovo che la sincerità sia la cosa più vera che esista in questo mondo, e per essere sincera come prima cosa vi dico subito che sono, l'avrete capito senz'altro, senza aprire i dubbi, ma sono in macchina. Perché appunto perché sono in macchina? Perché diciamo che la macchina è il luogo più tranquillo che c'è, perché in casa mia è sempre un casino, quindi appunto ho deciso di fare questo video semplicemente in un posto tranquillo, in cui nessuno può disturbarci, potrebbero esserci comunque anche delle collaborazioni tranquillamente, ma collaborazioni proprio di persona, quindi magari invitare anche mio fratello, comunque invitare qualche mia amica o comunque qualcun altro che conosco a magari fare un video con me, se appunto potrà interessarvi. Comunque io smetto di parlare perché sennò viene lunghissimo, spero che appunto i contenuti che apporterò nel canale vi piaceranno e non vi creeranno noia, perché ve l'ho detto, cioè sono una ragazza molto solare, quindi cerco appunto di far ridere sempre appunto gli altri. E nulla, non mi resta altro che dirvi benvenuti nel canale, perché appunto sarò molto lieta di darvi benvenuto, vi do un bacione e ci vediamo più presto appunto con un prossimo video. Ciao!